buongiorno w tv news oggi 28 novembre san giacomo della marca e della giornata mondiale del dono nata a new york nel 2012 con una semplice idea perché dopo black friday non dedichiamo un giorno alla generosità e incoraggiamo le persone a fare la differenza nasce così la giornata mondiale del dono un giorno in cui siamo tutti invitati a donare nel senso più ampio del termine le persone possono dimostrare la loro generosità in tanti modi durante questa giornata che si tratti di aiutare un vicino sostenere una causa condividere un'abilità o donare all'organizzazione preferita ogni atto di generosità conta